Il blitz anti-senteismo all'ospedale di Ribera era stato messo a segno nel luglio del 2017 dalla Guardia di Finanza di Sciacca. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica avevano accesso ai riflettori sul Fratelli Parlapiano e coinvolto complessivamente 34 persone tra operatori sanitari e amministrativi. Adesso il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha disposto il rinvio a giudizio per 15 di loro. Si tratta dei medici riberesi Silvana Galletta, di 54 anni, e Serafino Galletta, di 62 anni, ai quali vengono contestati non solo fatti che riguardano la presenza in servizio, ma anche la redazione di certificati medici. Accusa quest'ultima formulata anche nei confronti di Anna Maria Bono, di 63 anni, e Giovanni Angelo Panarisi, di 60. Gli altri rinviati a giudizio sono Davide Caico, di 48 anni, Carmelo Tortorici, di 62, Felice Midioto, di 52 anni, Vincenzo Caternicchia, di 60 anni, Nino Riggi, di 62 anni, Calogero Triolo, di 52 anni, Paola Veneziano, di 47 anni, Calogero Schifano, di 63 anni, Liborio Saladino, di 55 anni, Maria Vaccaro, di 63 anni, e Francesco Russo, di 49 anni. Truffa e falso i reati a vario titolo che vengono contestati. Nell'ambito dell'inchesta, denominata Ghost Ride, ha già patteggiato la pena di un anno con la sospensione condizionale il dipendente Giovanni Maru, di 68 anni. Per tutti gli altri la procura deve ancora decidere. Il GUP del Tribunale di Sciacca ha già fissato la prima udienza che si svolgerà il 12 settembre prossimo. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento si è costituita parte civile. Una operazione che aveva destato parecchio clamore, che aveva coinvolto anche quattro consiglieri comunali in carica in vari comuni dell'Agrigentino. Sotto i riflettori erano finiti non solo i cosiddetti furbecchi del cartellino, con la contestazione dei reati di truffa e danni di ente pubblico, e inoltre in alcuni casi di peculato, interruzione di pubblico servizio e perfino false certificazioni. Una operazione che ha avuto origine da un'iniziale attività informativa in materia di assenteismo di pubblici dipendenti svolta nella parte occidentale della provincia e che si era incentrata in particolare sull'ospedale di Ribera, dove, secondo l'accusa, vi era in atto un vero e proprio sistema di illeciti. Dalla timbratura cumulativa dei cartellini di presenza per coprire l'allontanamento di dipendenti e dirigenti medici alle false attestazioni di malattia. Le indagini della Guardia di Finanza si erano avvalse di intercettazioni telefoniche ambientali e pedinamenti.